nuovo ospedale ricci blinda marche nord e spinge per muraglia notte delle candele fra fascino green pass e contestazioni alla palla di pomodoro un'opera 3d da guinness dei primati vispesaro il campionato comincia dalla trasferta di siena buonasera amiche amici di rossini tv benvenuti martedì 10 agosto col nostro appuntamento con rossini news apriamo con la sanità e in particolare con l'edilizia ospedaliera il sindaco di pesaro matteo ricci è intervenuto questa mattina in una conferenza stampa per aggiornare su una serie di incontri con la regione marche in cui il sindaco punta a salvaguardare l'integrità dell'azienda ospedaliera marche nord bocciare l'ipotesi di un nuovo ospedale a case bruciate e pensare a un progetto di ampliamento modulare sul nosocomio di muraglia il servizio sono decenni che si parla di un miglioramento della sanità del nord delle marche di un nuovo ospedale era mulì bastava fare il progetto a questo punto avremmo messo la prima pietra però abbiamo prendere atto che c'è una nuova giunta regionale siamo stati in un anno di covi però adesso è ora che si decida e il nuovo i nuovi indirizzi della giunta regionale sono chiari hanno abbandonato l'idea della della giunta ceriscioli che io sostenevo e vogliono fare un nuovo ospedale a pesero ho detto a quaroli in verità ribadito per la terza volta che se vogliono fare un'intesa con il comune di pesero e credo anche con il territorio ci sono tre precondizioni la prima è che non venga toccata l'azienda marche nord perché noi abbiamo bisogno di ospedali di eccellenza con eccellenze che frenino la mobilità passiva perché oggi tanti marchigiani pagano i cittadini di pesero urbino che quando non trovano risposte vanno a curarsi in Emilia Romagna o in Lombardia il secondo tema è che bisogna fare presto l'unico punto dove fare l'ospedale è muraglia non solo perché era stato indicato dai sindaci della provincia di pesero urbino ma anche perché si può partire domani mattina altre idee come quelle di case bruciate sono del tutto strampalate anche perché servirebbe una variante urbanistica che occorrono almeno due anni è un'area che ha problemi idrogeologici posti fra l'altro della regione ed è un'area completamente verde agricola quindi andremo a trasformare e costruire in un'area verde mentre invece muraglia si trasforma la parte esistente già costruita dell'ospedale lungo via l'ombroso e di altre strutture già esistenti quindi la seconda precondizione è fare subito a muraglia possono partire domani mattina la terza precondizione è fare un progetto che sia almeno modulabile perché il progetto della giunta precedente prevedeva 600 posti letto la nuova giunta regionale prevede 400 posti letto se lo vogliono fare da 400 posti letto almeno abbiano un progetto che in futuro possa essere ampliabile se questo servirà e al tempo stesso chiesto che ci siano delle risorse anche per la riqualificazione del santa croce perché a quel punto l'azienda ospedaliera rimarrebbe tra pesaro cioè muraglia quel punto il santa croce non è quello che volevamo ma almeno un passo avanti di semplificazione che si potrebbe fare adesso la palla alla regione il presidente acquaroli sa che su queste tre precondizioni si può trovare un'intesa se non ci sono queste tre precondizioni di uno si prende la propria responsabilità io da parte mia incontrerò i sindaci a iniziare da quelli dell'unione del comune piano del bruscolo poi sindaci dalla provincia convocherò per settembre l'area vasta provinciale così come più volte anche il sindaco di urbino ma giustamente sollecitato di fare e quindi insomma settembre sarà un mese determinante per vedere se si fa sul serio e se pur partendo da posizioni molto diverse si vuole arrivare ad un'intesa dell'interesse dei cittadini oppure si vuole continuare una lunga campagna elettorale che secondo me ha stufato tutti quindi queste sono le cose che ho detto al presidente acquaroli con lui c'è un rapporto istituzionale corretto spero che si possano fare delle cose positive per i cittadini pur avendo idee molto diverse ma magari quando si governa poi si riesce a trovare anche un punto di mediazione che può essere complessivamente un passo avanti per il territorio altrimenti ognuno si prende le sue responsabilità io di certo mi batterò per una sanità del nord delle marche forte più forte di quella che c'è oggi perché abbiamo ancora tante fragilità e in grado di ridurre la mobilità passiva del nostro territorio perché tantissimi sono costretti non trovando risposte ad andare a curarsi in emilia romagna e lombardia ieri sera le marche hanno superato il milione di persone vaccinate con prima dose 840 mila dei quali hanno già effettuato il richiamo numeri che accompagnano una giornata che registrano una lieve flessione su nuovi contagi in regione oggi se ne contano 146 su una percentuale di tamponi positivi al contagio che si abbassa dal 13 all'8 per cento stabile il numero di ricoverati nelle marche che sono attualmente 53 di cui 6 in terapia intensiva in contemporanea a questa nostra edizione del telegiornale sta cominciando candele sotto le stelle come ormai consuetudine di ogni notte di san lorenzo pesaro sarà a lume di candela per tutto il litorale 16 quintali di fiammelle che si allungheranno fino alla costa di gabice mare e dal castello di gradara ricordiamo che è previsto l'obbligo di green pass nonostante l'evento non sia circoscritto da entrate e uscite sono previsti controlli a campione senza gravi nei confronti di esergenti e ristoratori e per agevolare la partecipazione agli eventi di questo periodo di ferie per tanti cittadini il comune di pesaro ha parecchiato in questi giorni l'operazione agosto sicuro con quattro mattinate di tamponi gratuiti all'esterno del campus scolastico anche oggi una seconda mattinata di grande affluenza soprattutto di giovani per il test gratuito tant'è che l'organizzazione ha deciso di raddoppiare le postazioni per i test da due a quattro su circa mille persone sottoposte a tampone sono tre quelle risultate positive al covid 19 ricordiamo che ci si potrà sottoporre a tampone gratuito al campus anche nelle mattinate di venerdì 13 e sabato 14 agosto dalle ore 9 alle ore 13 è una notte delle candele accompagnata anche da diverse critiche ad un'ordinanza comunale che limita la somministrazione di cibi e bevande a quelle attività che non aderiscono alla manifestazione nel prossimo servizio ascoltiamo in merito il parere di amerigo varotti direttore di conf commercio fratelli d'italia l'ha etichettata un atto di imperio del sindaco matteo ricci il consigliere regionale giacomo rossi l'ha definita provvedimento discriminatorio liberticida la lega di pesaro ha invitato il primo cittadino a revocarla immediatamente insomma è sconfinata nella polemica politica l'ordinanza comunale che in occasione di candele sotto le stelle impone la sospensione dell'attività serale di bar e ristoranti sulla spiaggia che decidono di non aderire alla manifestazione al di là della sollevazione d'opposizione politica è anche la conf commercio ad esprimersi con parere critico per la mancanza di concertazione e di chiarezza a noi è sembrata l'ordinanza molto strana intanto perché non è stata condivisa non è stata discursa e quindi ci siamo trovati di fronte come si dice al fatto compiuto un'ordinanza che non ha nessun substrato di legalità che un sindaco disponga la non apertura di un'attività se non aderisce ad una manifestazione di accoglienza è una cosa che non si è mai vista insomma ecco quindi abbiamo criticato questa scelta e abbiamo criticato la mancata concertazione che probabilmente se si fosse stata avrebbe evitato all'amministrazione di fare un errore insomma un autogol notte delle candele che arriva dopo cinque giorni di obbligo di green pass che hanno già prodotto effetti tangibili per quanto riguarda i musei devo dire che abbiamo non poche preoccupazioni abbiamo già avuto ad esempio a fossombrone voi sapete che è in corso un'importante mostra di giuseppe diamantini che terminerà il 14 di ottobre una mostra importantissima perché è la prima mostra in assoluto che viene fatta su questo artista di fossombrone del seicento e abbiamo avuto molte disdette anche di gruppi organizzati che venivano appositamente da noi per questa mostra hanno mandato la disdetta perché appunto non sono in possesso del green pass e probabilmente non hanno intenzione di fare di fare la vaccinazione nel mondo della ristorazione devo dire che il l'introduzione del green pass non ha creato soverchi problemi i ristoratori sono hanno capito insomma la necessità di adeguarsi a questa disposizione contro voglia ma ovviamente l'hanno fatto è stata credo positiva la dichiarazione ieri della ministra Lamorgese che ha chiarito che il ristoratore non ha alcun obbligo di chiedere i documenti di identità e quindi questo semplifica la vita del ristoratore però ecco problemi non ne abbiamo registrati e non ci sarà solo il fuoco delle candele ma anche i colori di un'opera a 3d da guinness dei primati è quella che verrà inaugurata questa sera la palla di pomodoro omaggiando anche la 42esima edizione del rossini opera festival vediamo di cosa si tratta nel servizio di edoardo orazzi quest'anno in un anno ancora purtroppo di covi dove non possiamo fare in questa piazza ballo concerti ed altro abbiamo pensato di puntare sullo street art del resto sulla street art del resto lo stiamo facendo già per tanti posti grisi della città in questo caso un'opera temporanea però in una delle piazze principali di pesaro con un artista di primo livello molto affascinante in tridimensionale quindi verrà inaugurato in una delle notti più importanti per pesaro diciamo noi la notte più glamour d'italia dove migliaia di persone vestite di bianco e allume di candela renderanno tutto il lungomare bello vivace e attrattivo e quest'opera renderà la serata ancora più magica potrà essere vista in qualche modo ammirata anche per le settimane a venire nel mese di agosto l'opera è un'anamorfosi quindi un'opera in 3d la chiamiamo sempre così rappresenta un buco in questo caso dove vediamo un mondo sommerso questo mondo sommerso si ispira all'opera di rossini di mosè il faraone e dove vediamo appunto mosè che separa le acque il riferimento è quello e ci è servito proprio per prendere l'acqua del mare portarla qua sotto e riaprirla come abbiamo aperto il pavimento e materiali per non andare a rischiare di rovinare il suolo abbiamo lavorato su un supporto in pvc in modo tale che possa anche essere conservata e riutilizzata poi la tecnica è un pittura acridica sperimenti come questi lasciano sempre diciamo un certo un certo che insomma di di sorpresa la prima volta che viene realizzata pesaro soprattutto la prima volta che viene realizzata su queste dimensioni fino ad essere appunto una delle più grandi se non forse la più grande d'italia e sicuramente sarà un benvenuto per i turisti e per i pesaresi non piazzare la libertà che quest'anno come l'anno scorso in realtà non ospita eventi ma può ospitare il pubblico quindi un modo per girarci attorno e per trovare anche diciamo un motivo di sorpresa in più questa è un'iniziativa particolare è un'iniziativa molto diversa dalle altre che comunque attirerà siamo convinti migliaia di persone di pesaresi e tanti turisti perché è una cosa per le nostre zone nuove comunque la nostra è una banca di credito cooperativo quindi dove c'è il sociale dove c'è la promozione turistica dove c'è la gente che si interessa noi seguiamo partecipiamo e quindi una banca che sta in mezzo alla gente che sta sul territorio quindi collaboro con tutte le iniziative con l'amministrazione di pesaro poi abbiamo un feeling particolare e non è la prima questa iniziativa non è l'ultima ne facciamo tante per la scuola per i ragazzi per i giovani e queste sono iniziative che ci portano a contatto con la gente col territorio con le amministrazioni alle quali non possiamo mancare con la mia azienda ecco siamo contenti di aver risposto all'appello che è venuto dall'amministrazione comunale per dare una mano insomma realizzare questo tipo di opera e quindi niente insomma dai siamo una realtà che da tanti anni insomma ormai su pesaro rappresenta un po' un punto di riferimento per i colori per le vernici e quindi dai ben ben lieti di rispondere alla chiamata ad urbino due ragazzi di 21 e 23 anni sono stati deferiti dall'autorità giudiziaria in seguito alle numerose denunce arrivate al commissariato di polizia per episodi di imbrattamento di muri e portoni del centro storico fra il duomo via valerio e via budassi le indagini della polizia hanno consentito di risalire a diversi giovani universitari appassionati della musica trap collegando gli imbrattamenti ad una serie di scritte in codice appartenenti a questo gergo musicale la polizia ha individuato i responsabili in due ragazzi maceratesi negli ultimi quattro anni sono 11 le persone denunciate ad urbino per questo tipo di comportamenti illeciti il ministro dell'istruzione patrizio bianchi è stato in visita a pesaro per partecipare al taglio del nastro della mostra che casa rossini ha organizzato per i 200 anni della rappresentazione dell'opera di gioachino rossini matilde di sabran una mostra in cui sono esposti spartiti libretti d'epoca e costumi di sceni in una mostra che si completa al museo nazionale di rossini con uno spazio dedicato a niccolò paganini che nel 1821 a roma fu in atteso direttore d'orchestra nella prima di matilde di sabrahan la mostra è organizzata dalla fondazione rossini e si chiuderà il 28 novembre la musica dell'orchestra sinfonica gioachino rossini torna protagonista domani mercoledì 11 agosto alle 21 e 15 all'anfiteatro rastat con freedom a george michael e prince reduce dal successo del debutto lo scorso 26 luglio al parco mira al fiore la cantoatrice pesarese clarissa vicky torna sul palco per un tributo a due icone contemporanea con gli arraggiamenti di pasquale corrado e parliamo ancora del roff che questa sera prevede il via della seconda serata del festival con il signor bruschino al teatro rossini mentre domani alle 20 alla vitri frigo arena ci sarà in scena la terza nuova produzione di questa 42esima edizione si tratta di elisabetta regina d'inghilterra di davide livermore diretta di evelino pidò roff che domani si stringe anche una nuova collaborazione con il conservatorio rossini e i mercoledì di via passeri l'iniziativa che da giugno anima ogni settimana ristorazione commercio iniziative culturali nella via del centro storico da domani 11 agosto si apre anche all'esibizione di giovani talenti del territorio si comincia dunque domani con la 21enne violinista kazaka fazikat mubarak e con la soprano federica priscilla nicodemo che si esiberà dal balcone di palazzo montani antaldi tra degustazioni e musica torna birra d'augusto l'ormai tradizionale evento fanese dedicato alla birra di qualità che anche quest'anno coinvolgerà i locali del centro l'appuntamento è per giovedì 12 venerdì 13 agosto con un'edizione che strizza l'occhio alle celebrazioni dei 700 anni della morte di dante alighieri vediamo il servizio di simone celli l'anno chiamata edizione su dante e non soltanto per l'affa già presente e per quella in arrivo il fatto è che quest'anno ricorrono i 700 anni dalla morte di dante alighieri da qui la volontà degli organizzatori di birra d'augusto di unirsi alle celebrazioni in onore del sommo poeta per il resto seppur allargata la formula sarà quella d'eccezione già sperimentata lo scorso anno rivisitata causa covid ma comunque di successo grazie all'associazione culturale fortuna dea in collaborazione con confesercenti comune di fano pro loco e il tour operator tu qui tour giovedì 12 venerdì 13 agosto si potranno dunque di nuovo apprezzare le migliori birre artigianali nei dieci locali aderenti del centro storico fanese un'occasione in più per divertirsi e per vivere a pieno la città della fortuna l'evento purtroppo anche per quest'anno causa covid non abbiamo potuto realizzarlo sulla formula principale ma ci siamo basati su quella che è stata l'impronta fronte all'anno scorso ovvero ci siamo collegati con gli esercenti del del nostro centro storico quest'anno l'abbiamo allargato non solo alla piazza ma a tutto quello che riguarda il centro storico di fano quindi a più esercenti hanno risposto tutti positivamente alla domanda e quindi abbiamo allegato ogni birrificio sanno nove birrifici qui della nostra entroterra tutti i birrifici artigianali ai vari esercenti che hanno perso parte all'evento quindi la formula è birra artigianale food nei vari esercizi che ci hanno dato la disponibilità musica lei dal vivo e anche dj7 tutto dal dall'aperitivo fino al dopo cena partecipazione libera e mi raccomando per quello che riguarda la prenotazione che è consigliata perché comunque si seguivano tutte le normative anti covid di ruolo e tutto quello che ne consegue questo evento che ormai è arrivato alla sua undicesima edizione abbiamo deciso di collaborare come confe esercenti in maniera attiva perché quest'anno si svolge appunto in tutto il centro storico abbiamo deciso di dare il nostro supporto per riuscire a creare movimento in centro dare una mano alle attività che vengono da questo periodo di difficoltà dovuto al covid e finalmente adesso si inizia pur mantenendo le norme di massima sicurezza pur facendo attenzione a tutto quello che sono le leggi anche con il green pass quindi stando all'aperto però cercare di creare un evento divertente sicuro e che porti gente in centro storico il centro commerciale naturale della città di fano cercare di rivalorizzarlo ridargli la giusta importanza e cercare di dare una spinta di ripresa alle attività se è vero che oggi il 50 per cento dei motivi perché un turista va a far le ferie sono legati all'enogastronomia il resto 50 per cento storia cultura paesaggio arte però quello che conta molto oggi eleno gastronomia quale migliore occasione visto che la festa della birra è nata da poco ha bisogno di crescere deve crescere legare il nostro mestiere a questa piccola festa con la speranza di farla crescere ormai si conosce quella che è la creatività la voglia di fare della città di fano quindi un'altra associazione questa volta fortuna dea nata per valorizzare la nostra alogastronomia quindi le nostre birre tradizionali che ha rivisto il suo modo di fare l'evento quindi collaborerà con tutta una serie di attività del centro storico e non solo per far sì che innanzitutto si possa far ancora di nuovo lavorare le attività economiche in questo periodo così difficile si possa mantenere vivo ma sicuro il nostro centro storico e dallo stesso modo si possa valorizzare questo prodotto così importante che ha visto nascere tanti birrifici nel nostro entroterra ma anche nella nostra città e che è un prodotto ecco tutto da valorizzare ed ora lo sport con la vispesaro che conosce il suo piano di viaggio per il campionato 2021 22 è stato infatti emanato il calendario della serie c che per la vis comincerà il 29 agosto dalla trasferta di siena il servizio di daniele sacchi comincia da siena l'avventura 2021 2022 della vispesaro in serie c una prima di campionato prevista il 29 agosto che alla emanazione dei calendari rispolvera una partita che sintetizza già la nuova dimensione orizzontale della serie c girone b protesa dall'adriatico al tirreno si comincia da siena partita che la vis non gioca da 30 anni decenni in cui la città del palio ha assaporato la serie a per poi precipitare in serie d da dove in estate è stata ripescata nel professionismo un direttore sportivo d'altra categoria come giorgio perinetti e un allenatore ex campione del mondo come alberto gilardino sono il biglietto da visita del siena che affronterà la vis ed è toscana anche la prima avversaria che farà tappa al benelli il pontedera che sarà pesaro il 5 settembre dopodiché doppia trasferta abruzzese contro una delle big del campionato come il pescara retrocesso dalla cadetteria e poi si va a teramo alla quinta giornata figura invece una x molto intrigante che si scioglierà domani con il pronunciamento del collegio di garanzia del coni sul ricorso del fano contro l'esclusione dalla graduatoria di ripescaggio se saranno avvalorate le ragioni dei granata la vis ospiterà il derby già il 26 settembre in alternativa ci sarà il comunque affascinante revival della sfida fra pesaro e gli amici gemellati della pistoiese che sarebbero ripescati al posto del fano il calendario dice anche che il campionato della vis si concluderà al benelli il 24 aprile con l'ancona matelica due vecchie conoscenze ora fuse assieme in una nuova società la vis intanto avrà il suo primo impegno ufficiale al benelli il 21 agosto con il primo turno di coppa italia a pesaro arriverà il modena dell'ex manuel di paola che si candida ad essere una delle favorite per il salto in serie b la vis ci si prepara lavorando sul campo e costruendo la sua nuova identità attraverso una spina dorsale che ora parte dagli esperti gavazzi e coppola le prime impressioni sono positive nel senso che abbiamo un gruppo completamente nuovo però un gruppo che ha voglia di dimostrare qualcosa ha voglia di far sacrificio a grande propensione al lavoro è la base per fare un buon campionato di serie c dopo cosa si potrà fare lo vedremo col tempo però una volta che dai tutto quello che puoi dare secondo me basta quello c'è voglia di lavorare voglia di sacrificarsi uno per l'altro per me è quello è il punto di partenza e deve essere il nostro punto di forza quando cominceranno le partite vere mi è piaciuto subito l'ambiente che c'è perché veramente una grande famiglia trovato tutti uniti tutti remiamo dalla stessa parte nessuno si sente una prima donna tutti questi sono componenti fondamentali secondo me per fare bene soprattutto in serie c dal primo giorno che sono arrivato ripeto ho trovato ragazzi fantastici umili una vera e propria famiglia infatti mi sono integrato benissimo sono arrivato con manetta un paio di giorni dopo è subito mi sono integrato bene perché veramente ripeto è un gruppo fantastico quindi io per esperienze precedenti dico che questo fa l'ottanta per cento della squadra il gruppo anche magari quando sei carente in altre cose però se sei gruppo così riesce ad uscirne fuori anche dei momenti difficili in maniera in maniera più facile diciamo sono un mediano un cento di pista centrale diciamo di lettura mi piace anche abbastanza giocar palla però sono più sono bravo soprattutto nell'interdizione diciamo nelle letture di gioco a ben carriera ho fatto tanti ruoli ho fatto anche il difensore infatti c'era un visto centrale la mezzala a volte anche terzino fatto quindi però come naturalmente c'è una pista centrale mediano il nostro obiettivo diciamo è portare entusiasmo far bene e soprattutto quello che che il mister ci dice ogni giorno non aver paura di nessuno cioè noi andiamo in campo con le nostre idee facciamo la nostra partita che giochiamo col san marino giochiamo con il modena di turno che è la corazzata noi andiamo in campo per fare la nostra partita poi secondo me quando hai un gruppo unito e fai bene le cose ti alleni bene tutti i giorni a volte fai delle annate inaspettabili speriamo bene e concludiamo con la pallavolo e la megabox valle foglia che oggi ha comunicato le inattese di missioni del direttore sportivo piero babbi protagonista della promozione in serie a 1 il presidente ivano angeli si è detto molto dispiaciuto della decisione che comunque rispetta ho provato a farla desistere da questa scelta ma evidentemente le incomprensioni sorte all'interno della società non erano più superabili come presidente della società lo ringrazio per l'ottimo lavoro svolto in queste due stagioni sportive nel corso delle quali la squadra ha saputo affermarsi sino a conquistare la promozione in serie a 1 ruolo e mansioni del direttore sportivo saranno assunte dalla dirigenza e siamo i saluti ma prima di augurarvi una buona serata in questa notte di san lorenzo vediamo la programmazione di rossini tv per questa sera in onore a rossini opera festival alle 21 e 15 figaro qua figaro la l'edizione del 2018 già trasmessa dalla nostra emittente tre anni fa che riprenderà questa bellissima iniziativa questo insieme di musiche dedicate a giochino rossini anche questa sera vi auguriamo quindi una buona serata vi auguriamo di vedere tante belle stelle cadenti buona serata a tutti